È iniziato l'intervento di messa in sicurezza della cisterna pericolante dell'ex fabbrica lucchese in via Cavour. La nigro costruzione di Prato sta montando il ponteggio con cui verrà avvolta la storica struttura industriale. Andiamo a realizzare questa struttura in tube giunti e ponteggi. Tre settimane massimo siamo in grado di finire i lavori. Una volta ultimata il comune potrà riaprire via Cavour, chiusa per motivi di sicurezza dal 3 febbraio, da quando cioè un pedone si è accorto che cadevano dall'alto dei pezzi di cemento provenienti dalla storica fabbrica. Questa parte qui del cemento che in qualche modo ha scoperto tutti i ferri effettivamente ha una pericolosità importante. L'ordinanza comunale per la messa in sicurezza dell'area scade oggi ma sarà prorogata per permettere alla ditta di terminare l'intervento. La facciamo in modo tale da permettere poi ai tecnici di fare le altre dovute analisi per poi pensare al consolidamento vero e proprio. È la parte più complessa e costosa dell'operazione per garantire lunga vita a questo simbolo ormai raro del glorioso passato industriale di Prato. Ci vorrà tempo ma intanto la messa in sicurezza permette di tornare alla normalità sul fronte della viabilità.